La redazione di Teleelba ha ricevuto la simpatica, quanto gradita, visita degli alunni della classe quinta B della scuola elementare San Rocco di Portoferraio. La visita rappresenta il coronamento di un breve percorso di avvicinamento al mondo del giornalismo che i giovanissimi studenti hanno compiuto con il contributo della nostra redazione. I bambini hanno mostrato molta curiosità per il lavoro che si svolge quotidianamente a Teleelba e sono rimasti affascinati soprattutto dalle tecniche di montaggio dei videoservizi. Ciao Alessandro, allora ti è piaciuto? È stato bellissimo stare qui con voi. La cosa che ti è piaciuta di più? La redazione. Allora Federico, come stava questa visita? È bellissima. La stessa che mi è piaciuta di più è stata montata. Perché è molto lì? Lì? Le persone che lavorano qui decidono come spedizionare le scelte di ministra. Ti è piaciuta la visita oggi? Sì, mi è piaciuta la sala dove registrano. Allora Isabella, cosa ti è piaciuto di questa visita a Teleelba? La sala montaggio. Anche a te? Perché? E perché? Perché è troppo figo vedere la voce e con le immagini che tutti si chiamano. Il miracolo che succede. Ciao!